Con il via libera del Ministero della Salute e l'Abruzzo pianifica la somministrazione della quarta dose di vaccini anti-covid su base volontarie e senza prenotazione anche per gli over 80, oltre a particolari categorie di fragili ultra-sessantenni individuate come più a rischio. I dettagli li spiega l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verini. Si parte in tutte e quattro le arse della nostra regione con accesso libero agli hub per tutti gli over 80 che hanno ricevuto la terza dose da almeno quattro mesi, ma che non abbiano avuto nel frattempo il virus, quindi che non abbiano contratto il virus. Non è necessaria la prenotazione, invece continua così come è partita da diverse settimane la somministrazione della quarta dose per i fragili. I fragili con una delle patologie indicate dal Ministero della Salute che sono pubblicate sul sito della regione. Non coloro che sono in possesso di un qualunque codice di esenzione per patologia, ma una platea precisamente individuata. L'adesione finora non è stata molto alta fra i fragili, come del resto un po' in tutta Italia. Voglio anche ricordare che gli over 80 destinatari potenziali della quarta dose sono circa 90.000, mentre i fragili complessivamente sono circa 40.000. Quali sono i numeri adesso della pandemia in Abruzzo? Il virus continua a circolare nella nostra regione, devo dire anche con forza, però in modo più o meno omogeneo su tutti i territori. Ormai da settimane notiamo l'assenza di picchi e anche la situazione dei ricoveri ospedalieri, diciamo che è costante e quindi la teniamo sotto controllo. Abbiamo un'occupazione in terapia intensiva che è al 6%, in linea con la media nazionale, mentre l'area medica è al 23%.